ciao a tutti amici di spazio e ben ritrovati in questo nuovo video adesso vi mostro come visualizzare tutti i canali di sky go su un iphone jailbroken normalmente sky blocca lo streaming video quindi possiamo vedere ad esempio sky di g24 ma non possiamo vedere fox o altro quindi come fare basta installare questo tweak direttamente dai file possiamo installarlo quindi installazione fine e al termine dell'installazione eseguiamo un resping grazie a questo tweak che potremo vedere su sky go anche i canali che normalmente ci vengono vietati poiché abbiamo un iphone jailbroken ma comunque tutti e soli i canali che sono compresi nel nostro abbonamento ok l'iphone è stato riavviato o meglio è stato fatto un resping ma va bene anche un riavvio apriamo sky go ed inseriamo i dati di accesso io ho già inseriti per accelerare i tempi e proviamo a vedere fox in diretta su sky troviamo pubblicità e andiamo per esempio su sky sport 24 quindi possiamo effettivamente vedere tutti i canali che sono nel nostro abbonamento anche su dispositivo jailbroken per tutti i dettagli vi rimando alla guida che trovate su aespazio.net ciao